8.000 addiamo! AD'AQUY! A5CUN**** Eh ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui su Bi-bambi-bambi-bombi-bububububububububububububububububububububububububububububububu Allora, signor Nick allora dovremmo aver capito come cazzo si supera aspetti sioniche l'aiuto ok ok ora dai tu devi andare fatti dare una spinta da lui quando basta ok dobbiamo farlo allora vai sioniche aiutami a di lui e poi tu devi cercare di salire su di lui ho sbagliato no 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 tu non devi devo andare subito sulla destra perché vai ho capito allora vai allora non certo sì ma non deve essere giù scendo aggiungendo no no io devo essere su tutto si lo so ma non posso venire se tu non sei giù perché mi sa la tua spinta allora perché aspetta ok allora miei ragazzi sto gioco è bellissimo credetemi è bellissimo moria a cazzarola non minchia quel tizio io guardo te tu fai un salto nella madosca quello fa il saltino succhia ok allora sono qua no aspetti si deve venire qui da lui bravo ok allora aspetta allora adesso facciamo così io io salto tu salti e tu devi fare su e giù su e giù hai capito vai ok allora aspetta non si addormenti stia sveglio si 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 aspetta ci siamo quasi ci siamo quasi ora va bene fermo così ok 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 tu devi dare la spinta a me allora ho capito c'è unicchè mamma mia c'è unicchè mi sento carico carico a bestia boom oh mamma bene fermo così bravo salta salta ok vadi 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 signor nicchè speriamo che stavolta pepo la volta no signi che cazzo fa signor nicchè dove essere fermo signor nicchè signor nicchè si sta nascondendo signor nicchè no quando tu mi dà la spinta io vado di qua e poi torno indietro e ti do la spinta a te e tu prendi a lui devi stare solo fermo nicchè no se sto fermo sbatto la testa secondo te perché hanno messo su blocco sotto di me no che figli di troia adesso l'hai capita da capo questo sarà il video dedicato al bonus mamma mia mamma mia tutti i vari fail ma provo a stare fermo tu scusa eh si vabbè certo se io non mi dimentico però di andare là scendi di nuovo scendi nuovo scendi nuovo perché se mi dimentica un povero mamma mia bravo peppino ok vai oramai oramai questo bonus sono la più segreti per me ok salta aspetta no 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 con calma no che con calma ma io questo doveva va lontano eh eh questo qua è un bel cazzo salti salti ok perfetto allora fammi beccare allora è pronto eh speriamo no ma bravissimo peppo se non è che non ce la faremo mai aiuto allora aspetta vai 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 boom ok ok diciamo che ti fa piacere che ce l'hai fatta eh mannaggia eh vabbè si ma fa ancora aspetta allora vai vai boom strancio fammi saltare scendi oh yes oh yes salta oh peppo quanto è bravo mamma mia allora vati 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 arrivo ma parca di quella zia ma se provi a stare fermo no becco sto coso beccalo 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 no no tu prova a beccarlo mi fai togliere sto vizio a me ok ok ci tiene tanto giusto ci tengo è indispensabile per me eh la peppina che culo mamma mia ce l'ho fatta per culissimo vai salti no aspetta mari mari madonna dedica però un video dedicato al bonus veramente oddio salta no non mi fido di te aspetto che lui vai torna dai si signor coso dai muove il culo spiega con calma ok vai ti unicchie è pronto vado stia fermo vedi hai visto ok avevi ragione ok ma se facciamo il contrario vai tu 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 facciamo il contrario vai facciamo un pochettino di stretching l'uno vai deve saltare quando ce l'ho sotto quando ce l'hai so ma deve andare pure lei se le dimenticate vai 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 non ce lo scordi però eh vadi no ok vai ritorni dove era prima ritorni dove era prima signor nicchia no signor nicchia se lei non va verso allora aspetta no allora appena lui salta vai subito vai subito eh si vabbè no no aiutare a me vai eh signor nicchia signor nicchia se lo dimentica signor nicchia credo in lei credo in lei no aspetti faccia di me ma non può stare fermo sto qua no ok ho capito nicchia vai va bene vai perfetto vai 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 hai capito tutto ho capito tutto aspetta no il rettangolo del cazzo di mordo wow grazie per avermi spinto eh un amore lei salta salta non è reattivo come la reazione no aspetta salta ok è fin qui è pronto mamma mia mamma mia l'apoteosi l'apoteosi 20 minuti ce l'abbiamo fatto troppo forti troppo troppo forti grande nicchia oh achievement sbloccato first crystal a me non mi ha detto niente che sono disgraziato come non ti ha detto niente mamma mia nicchia siamo bravissimi nicchia guarda vai giù vai giù no sì o no ho capito nicchia veni con perché devo venire da te scusa no tu non puoi salire non puoi fare niente devo venire io da te ok vai vai di là ora sì ora che eh eh che c'entra ora puoi salire allora torna torna indietro ah ho capito ho capito che cosa che cosa come come aiutami a salire su questo coso certo certo nicchia arrivo subito eh 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 niente dobbiamo rimandare mi rompo nel cazzo devo andare va bene dai ti rompo nel cazzo va bene va bene allora quindi allora vi chiediamo scusate per questo video corto ragazzi il lavoro chiama noi ci vedremo ad un prossimo video vi vogliamo bene eeeh ciao ciao ma come faccio signor nicchia credo in lei signor nicchia signor nicchia devo credere in lei di più venghi allora guardi guardi come si fa guardi come si fa guardi le faccio vedere vediamo l'esperto guardi le faccio guardi le faccio